Ad agosto 2003 fu insignito della cittadinanza onoraria della Grecia Salentina, l'area elenofona del Salento, per il suo impegno profuso nel nome della pace e della diversità che nel 1990 gli valse il premio Nobel. Risale a quasi vent'anni fa l'ultima visita in Puglia di Mikhail Gorbachev, ultimo leader dell'URSS, prima della sua dissoluzione e padre della perestroica, nonché protagonista politico della fine della Guerra Fredda e dell'Unione della Germania, morto ieri sera all'età di 91 anni. Gorbachev ricevette il riconoscimento conferitogli dall'Unione dei Comuni della Grecia Salentina il 9 agosto a Calimera, durante un periodo di vacanze che l'ex politico stava trascorrendo a Castro, insieme a figli e nipoti, che lo vide partecipare anche ad un convegno sul tema Salento, dialoghi di pace, assieme all'ex presidente della Camera dei Deputati, Pierferdinando Casini. Nella motivazione del conferimento della cittadinanza onolare a Gorbachev, l'Unione dei Comuni della Grecia Salentina riconobbe l'impegno dell'ex leader sovietico, profuso per il suo paese e il mondo intero, nel nome della pace e della diversità, come confronto per aver dato vita con il suo impegno e la sua opera ad un nuovo equilibrio mondiale, fondato sulla libertà dei popoli, sull'abbattimento delle barriere, sul superamento della logica dei due blocchi e sulla fine della guerra fredda.